Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Parliamo di palacanestro, Eurolega e la trasferta dell'Olimpia sul campo dello Zalgiri-Scaunas. Un'altra vittoria per la squadra di Messina, ottenuta per 74-70 al termine di una classica partita dell'Olimpia di questa stagione. Devo dire, si assomigliano un po' a tutte queste sfide, giocate tutte a ritmo abbastanza lento, con grandi difese, con grande difficoltà anche a fare canestro, non magari spettacolarissime da un punto di vista proprio estetico, ma molto combattute, molto belle, soprattutto per l'Olimpia. Un'altra vittoria importante, che conferma questo terzo posto in classifica, sono 16 vittorie e 7 sconfitte fino ad ora in queste 23 partite già giocate. L'Olimpia si conferma tra l'altro come una delle migliori squadre in trasferta e sta facendo una cosa molto importante, ovvero sta vincendo tutte queste gare contro queste formazioni che probabilmente per quest'anno lo Zagiris ha solo tre vittorie, non hanno più la possibilità di entrare nella zona dei play-off e invece quello che poteva magari tante altre volte essere stato un problema per un'Olimpia che riesce meglio contro squadre più forti, invece sta portando a casa con una buona autorevolezza anche queste vittorie contro le formazioni che hanno meno da chiedere da questa stagione di Eurolega. È stata una partita molto equilibrata, testimoniata anche dai parziali, perché non c'è mai stato un periodo che si sia concluso con più di due punti di scarto tra le due squadre. Zagiris ha vinto il primo di un punto, l'Olimpia è il secondo di un punto, si è nata l'intervallo lungo sul 35 pari, lì l'Olimpia aveva cercato un primo a lungo nel secondo quarto, ma la formazione lituana aveva saputo tornare sotto. Nel terzo periodo ancora vittoria di Milano di due punti e nel quarto periodo ulteriore vittoria di altri due punti. Quindi dove Milano è riuscito a segnare 39 punti. 74 punti quasi per la stagione milanese di quest'anno, è un punteggio quasi alto rispetto alle medie che ci sta abituando la squadra di Messina. È successo molto importante ulteriormente perché è un momento nel quale sono ancora fuori i migliori attaccanti, quindi a maggior ragione in questo momento l'Olimpia sta costruendo le sue vittorie su quello che è il suo punto di forza, ovvero la grande difesa. Questa volta per di più ha funzionato anche molto bene a rimbalzo perché ha vinto per 40-29, ha preso 11 rimbalzi in più degli avversari e soprattutto ne ha presi ben 15 in attacco, il che ha permesso di tirare 8 volte in più degli avversari. Olimpia che stavolta ha tirato di più da 3 che da 2, ha tirato 34 volte da 3 e 29 volte da 2, con un 35%, piuttosto accettabile. Certe volte l'attacco di Milano è veramente difficile da vedere perché è faticoso trovare un giocatore libero, faticoso trovare una bella conclusione, altre volte scatta, va invece un pochino in maniera più fluida. Ancora una volta ha utilizzato spesso la permanenza in campo contemporanea di Delaney e Rodriguez, qualche volta addirittura anche insieme a Grant, quindi una sorta di triple playmaker, insomma un'Olimpia che prova, ruota come sempre una vittoria di squadra perché anche questa volta il giocatore con la valutazione migliore è stato Ainz con 21, Delaney i 20, Melli e il Ciaccio Rodriguez. Il Ciaccio ha giocato una partita molto importante perché dopo un secondo quarto nel quale ha appena entrato in campo e ha fatto ancora diversi errori e sicuramente in un momento un po' di appannamento rispetto alla solita forma che il giocatore spagnolo ha saputo offrire negli ultimi anni, invece ha chiuso comunque con 10 punti, 3 su 4 i tiri liberi, tra cui due tiri liberi fondamentali nel finale, ha ritrovato mano a mano sicurezza, alla fine ha giocato una partita molto positiva. Doppia-doppia per Ainz, 11 punti e 10 rimbalzi di cui 5 in attacco, 5 rimbalzi in attacco, anche per Melli che dopo la serata eccellente in attacco contro Trento in campionato è tornato alla sua partita classica di Eurolega, per lui 3 punti, 10 rimbalzi, una grande difesa e tante giocate veramente fondamentali. Da notare come con Ciaccio in campo più 10 anche nel plus-minus e stavolta invece con Ainz in campo, nonostante tutte le cose buone che ha fatto, meno 9 è il plus-minus. Plus-minus positivo anche per Kalem Terzeski, 8 minuti, non ha fatto 0 punti, ha fatto fatica come spesse volte gli capita soprattutto in attacco ma più 11 nel plus-minus così come All più 14. Importante il primo quarto soprattutto di Daniels, molto preciso da 3 punti, alla fine per lui 15 punti. Mi è piaciuto molto Alviti che ha giocato 6 minuti nei quali si è trovato molto pronto sia quando ha dovuto sia in difesa sia in attacco dove ha messo una triple dall'angolo molto importante, 3 punti per lui, viceversa Grant. Non mi è dispiaciuto come apporto alla partita, però fa veramente troppa fatica in attacco, 0 su 6 al tiro, c'è bisogno che metta qualcosa in più, se non sbaglio è 3 su 21, 3 su 22 come percentuale in Eurolega da 3 punti, deve sicuramente mettere qualcosa in più dal punto di vista offensivo e soprattutto al tiro. Una vittoria, ripeto, da Olimpia in un momento difficile con tante partite, una fase di stagione molto delicata e in un'Eurolega che sta un pochino distinguendo, sta praticamente facendo venire fuori quelli che sono i valori in campo. Da notare ancora il Fenerbahce che settimana scorsa ha vinto a Milano e che ieri ha tenuto il Real a soli 51 punti. Le otto squadre stanno cominciando ad allungarsi e a prendere il loro vantaggio rispetto alle altre squadre. Direi che le due squadre forse più pericolose ancora a tenere sotto controllo possono essere il Bayern e l'Anadolu, ma per il resto, per le altre formazioni che sono già nelle otto, credo che i valori si stiano nettamente delineando in questa stagione. Per quanto riguarda lo Zagiris, bene, le Cavicius ancora una buona partita, 23 di valutazione, 16 punti, tremendo Gifei, meno 16 di plus minus addirittura. Perez di Fallaish e Mesh, un buon arbitraggio, il voto per loro è 7. Telecronaca di Tranquillo e Crespi interessante, delle volte quasi anche fin troppo filosofica, ma è sempre un piacere comunque ascoltarli, like per il video, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti, grazie ancora per il raggiungimento dei mille iscritti che è un grande obiettivo. La prossima partita di Eurolega è contro il Bascogna, partita molto importante, Bascogna è 7 vinte, 16 perse, non ha vinto ancora nel 2022, prima di Natale, prima di Capodanno aveva vinto una gran partita col Barcellona e poi sembra che l'effetto anche del cambio di allenatore si sia un pochino perduto. Altra partita da vincere per mettersi di ancora più tranquilli per il raggiungimento della zona playoff e per affrontare le finaletti di Coppa Italia. Grazie ancora ragazzi, un bacione a tutti, ciao da ROX.